Ciao a tutti, l'8 dicembre ci sarà il debutto della Nazionale Ilbana, io sono stato convocato ma purtroppo per motivi di lavoro che mi hanno portato all'estero non potrò essere presente per questa partita, però volevo fare il mio grande in bocca al lupo al mister, ai ragazzi, a tutti quanti per questa nuova avventura della Nazionale Ilbana e spero che la partita vada bene. Ciao a tutti e a presto!